Si intitola Vasi comunicanti, l'esposizione di ceramiche che sarà inaugurata sabato pomeriggio presso la Galleria Santo Vassallo, annessa al complesso monumentale Corridoni di Mazzara del Vallo. Una mostra in memoria di Cosimo Barna, l'artista sacenze scomparso nei mesi scorsi e portata avanti dall'associazione culturale Il Pozzo. Tutta una storia che noi avevamo pensato prima della sua malattia. Era una sua idea addirittura? Sì, già era l'unico idea che noi avevamo Il Pozzo e siamo rimasti per un paio di anni fermi. E con la storia che c'era Cosimo che voleva fare questa cosa a Mazzara, allora ci facciamo assieme. E così si è andata a fare questa nuova aggancio con Mazzara del Vallo. In esposizione opere dello stesso Cosimo Barna, ma anche di Salvatore Catanzaro, Vincenzo Crapanzano, Stief New De Battista, Francesca e Giovanna De Santi, Antonino Fiocco, Filippo Fratantoni, Emanuele e Tania Lombardo, Sebastiano Lupica, Deborah Zarb Marmara, Roberto Masullo, Enrico Meo, Giorgio Muscat, Maria Teresa Oliva, Nicolo Rizzo, Salvatore Sabella, Eugenio Sclafani e Filadelfio Todaro. In esposizione anche opere di Aito al secolo, Nicola Cristaldi, sindaco di Mazzara. Cosimo Barna ha avuto la grande forza di affermare il primato dell'arte nella società siciliana. Naturalmente ha pressato presso la mia amministrazione perché dessimo il nostro contributo. Conoscevo Sciacca, conosco Sciacca, conoscevo gli artisti, conosco gli artisti. Cosimo ha saputo fare una bella ricognizione e abbiamo messo su questo movimento che abbiamo voluto chiamare ShamArt. ShamArt perché Shea sta per Sciacca, ma sta per Mazzara, Art la parte finale. Questo che sembrava un gioco è diventato un bel gruppo di persone che nel tempo ha visto proseguire la propria strada con l'ambizione di raggiungere sempre mete diverse. Questa mostra che si chiama Vassi Comunicanti avrebbe dovuto organizzarla proprio Cosimo Barna. Non ce l'ha fatta, Dio non ha voluto. E ha assunto la funzione che svolgeva Cosimo Barna il maestro Eugenio Sclafani che è riuscito a creare tanti problemi psicologici dentro di noi. Ha ridato entusiasmo in tutti i soggetti che avevano abbracciato il progetto di Cosimo Barna. E quindi anche per la nostra città è una bella occasione perché dopo Mazzara del Vallo speriamo di portarla anche a Sciacca naturalmente, essendo Sciacca il carro trainante di questa iniziativa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.